La stabilizzazione dei precari, nuove assunzioni di infermieri ma anche più sicurezza sui posti di lavoro alla luce degli ultimi accadimenti. Queste alcune delle richieste degli aderenti al sindacato nursing che questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede regionale dell'assessorato alla sanità. Allora motivi ne sono molteplici prima di tutto la carenza delle piante organiche che in Abruzzo sono in visione a tutti. Mancano circa 1700 infermieri quindi di conseguenza con l'istituto della stabilizzazione e con la reinternalizzazione dei servizi molto probabilmente potremmo uscirne a capo. Poi tantissimi motivi, la violenza nei luoghi di cura, pronto soccorso e quant'altro. In questo momento di riapertura ci sono i maggiori contagi anche perché la variante Omicron si sa è molto aggressiva da questo punto di vista. Per cui sì, noi abbiamo bisogno di infermieri anche perché non avendo più poi, avendo chiuso poi i luoghi deputati al Covid ce li ritroviamo in tutti i reparti per cui dobbiamo stare doppiamente più attenti e per dare un'assistenza di qualità abbiamo bisogno di personale. Una delegazione di manifestanti ha poi incontrato l'assessore Nicoletta Veri che ha preso impegni soprattutto sul fronte dell'ampliamento della pianta organica e della maggiore sicurezza. L'assessore ci ha ricevuto e ha recepito tutte le nostre richieste sia per le stabilizzazioni sia per la violenza nei luoghi di lavoro sia per la dirigenza della 251 del 2000. Abbiamo stressato diversi argomenti e l'assessore, che è una persona molto sensibile, ha accettato tutte le nostre richieste.